ma tutte le porte sono chiusa adesso si è chiusa quella di prima? no si è chiusa l'ha chiusa qualcuno altro che help la ragazzina help la ragazzina ti sta peggiando per lo culo e la ragazzina help vediamo subito se ci prende per il culo qua c'ho scaffo e docco ci faccio vedere io c'ho scaffo in padella ecco qua cos'è? ok ma qua sbucano porte dove non dovrebbero essere porte? questo è un cucchiaio? ok ragazzi non so cosa ho acceso ma ho acceso prendi prendi cos'è? ah parla di lavoro ragazzi per questo non mi interessa un cazzo allora l'orologio d'oro ok ok allora ragazzi sono fottuto l'orsacchiotto di questa ragazzina l'accendino madonna l'accendino di questo tipo sembra che funziona all'infinito quindi stiamo a posto scatoletta scatoletta di mangiare ma questo a che serve? mangia ma questo non è cazzo non so che cos'è ragazzi ma bene comunque medicina non ce n'ho più sto tipo eh ok tre andiamo ancora prendiamo una dovrebbe bastare adesso no? per l'inizio? si si madonna madonna siamo di nuovo qua è la destra eh? ma c'erano? bravo ma c'erano prima ah però cosa c'è scritto là sopra? tape full ah ok tape full ok il tape è pieno la videocassetta forse? o qualcosa del genere ma ragazzi noi hai capito? eh? si capisce un cazzo proprio no siamo di nuovo qua adesso c'è la porta aperta? no l'hai partature l'ho per te chiudi chiudi chiudete all'abbè ma è sempre il stesso giro che fa guarda vedi ah io dico che ogni giro cambia si pure io dico questo non c'era prima non c'era no c'era sinceramente non lo so ragazzi e se adesso ti fai un giro e vai a vedere se l'altra porta è pure aperta? no posso guardare? proviamo che ne so niente questa ancora è chiusa chiusa guarda adesso se la porta all'asico qualcosa non quadra qua no finito il gioco non c'è più il foglio hai visto? eh si perché sei andato dall'altra parte quindi non è sempre lo stesso giro che facciamo allora qua ci dovrebbe versere un'altra cosa adesso no? no questa stanza è uguale quindi si è fottuta il foglio alla ragazzina madonna madonna l'hai visto qua? cosa? madonna no 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 mi sembrava che ho visto qualche le medicine questo è un altro tutto ciò che facciamo qui finisce con una tape in un'altra parte tutto ciò ho cominciato a vedere il posto differente dopo che ho capito questo ciò che hanno stato qui per un po' sempre avevano i miei occhi sempre erano stati fatti quando hai cercato di parlare con loro non vogliono non vogliono implicare loro in nessun altro ho passato le ruote di surveillance prima ma non abbiamo la scelta per entrare è una buona che è lì stanno guardando le tape ok non è tablette tablette allora veniamo surveillance room surveillance room è là dietro però ci stanno registrando aspettate che prendiamo un po' di droga se no non riesco a parlare d'italiano ragazzi ecco qua allora ci stanno sorvegliando non so quando giri devo fare ma io dico che ogni giro che facciamo c'è qualcos'altro di nuovo o di strano il cucchiaino c'è quella non l'ho lasciata aperta il foglio non c'è più questo è nuovo è vero che non posso neanche più andare dietro ragazzi ormai sono nel giro della morte ok questo non l'ho aperta io senti il cuore ma chi è trick tricks trick track ancora jackson is jackson is putting in a legge l'uomo ok quindi ragazzi sapete che faccio vado direttamente sempre adesso c'è di nuovo il foglio ragazzi non capisco molto interessante mamma mia che male di testa ha lavorato due giorni di fila qualcosa di strano c'è ragazzi qualche volta si deve aprire sta porta però no non ho visto jackson per tre giorni è andato a casa ma era meglio quella sembra aperta no ancora roba qua ma ogni volta andiamo senza leggere tanto sempre stesse cazzate dicono e si deve aprire qualche volta io dico che lo fanno apposta che la non puoi imprimere niente che la non puoi imprimere niente qui a eject devi prendere il video la eject che vero e adesso lo devi devi forse rimettere un altro video o andare a prendere pure dall'altra parte allora dicendo veloce 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 mia madonna find the tape apri tutto a una botta come sai tu vola che ti puerdi find the tape apri tutti li devo aprire non è che mi fido quando apro tutte queste cose apri il luogo che non succede nemmeno la giacca mi ha fatto spagnare questo è chiuso te sigarette scarpe dell'altra parte giac li apro tutti adesso ragazzi li apro tutti questo è chiuso chiuso le scatolette di carne dentro non te la vuoi prendere niente comunque ha visto la droga non è più tiene un po più a lungo niente credo che qua non c'è niente dentro questo te lo fanno fino all'ultimo all'ultimo dopo ne esce in 1 1 dopo questo è chiuso un gioco che da un po alla psiche come vedo perché ti fa sembrare di essere al punto giusto invece siamo stop the fire tua sorella stop the fire chiamo i pompieri noi siamo arrivati di qua no si può saltare no ragazzi dateci un aiutino qua stop the fire ma se l'unica droga droga mi inghiaccomo c'è qualcosa dietro dici me lo sento prendi scatole sardi o di olivi tutto biglia ok niente quelle scatole non lo puoi rompere no no purtroppo no però posso prendere la droga allora mi sa che noi siamo in questa clinica siamo veramente i drogati forse strana cosa però ragazzi strana cosa si sale su ah tapes find the tapes stop the fire ecco ma mi devo girare mi giro lo fanno apposta lo fanno top the fire la cassetta cos'era la che luccica un altro a un altro note no no più avanti guarda la adesso sotto a sinistra destra destra aspetta sinistra destra manco le canne qua sinistra l'acqua sotto sotto ah ah luccica eh luccica si sono scomparse sono scomparse ragazzi dieci persone sono scomparse se le fottano in se le fottano in non ci sa il motivo e noi non sappiamo il motivo perché giochiamo ste cazze di cose qua no io nemmeno guardo proprio ma lo facciamo tanto per eh si tanto mo ti cacchilemo tanti tanto va piano piano o ti cacchilemo otto due ma grazie questa è solo una demo già sta durando un bel po' o siamo scemi noi perché non sappiamo cosa fare il teddy si è aperto una porta no veramente si è aperto un trend madonna madonna che lo carcero ok ragazzi il cuore batte abbiamo trovato lo tape bravo si l'ho capito l'hai detto già prima l'hai detto ok mo comincia a diventare un po' strana la roba ragazzi vai mamma anche tu carcero per merda eh bravo chiudi ciao uno si deve aprire ma chi sarà ah no che cazzo ok dove siamo qua ragazzi non ci capisco più niente sinceramente ma uno si deve aprire o no devo trovare la chiave forse ci deve essere una chiave ragazzi no qua c'è qualcosa che c'è ok ci incontriamo nella stanza McGuin's lui ha un piano bravo ok e mo si apre no no mango pellecane mango pellecane che devo fare ah la droga aspetta no che è successo no 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 mi sembrava che era questo no sentito anch'io qualcosa di strano scarpa e mo ma questi non c'erano prima ma questi non c'erano prima no management ok dato che io sono capo di tutti ho trovato droga ok sembra buona la droga volevo dire no alla droga ok questa non si apre questa che minchia ma le stanze cambiano così non lo so si si cambiano proprio il cazzo del cane si ci vuole fanno che cacchio vogliono qua è dove abbiamo guardato prima dentro sai nella biblioteca non pensi no mica ragazzi no non toilet toilet si aspetta che vado a cacare un minuto no niente manco cacare puoi più